Io vedo, sento, leggo quello che sta accadendo alle primarie, secondo me sono le primarie che volevamo, aperte, competitive, forse anche troppo competitive, sicuramente utili perché hanno restituito entusiasmo, partecipazione e soprattutto una grande presenza di popolo, il popolo del centro-sinistra. È chiaro che ci sono tre candidati, io oggi sono venuto a brindare con la candidata che preferisco e voglio aggiungere semplicemente che mi piacerebbe molto che il prossimo sindaco di Milano sia una donna e quindi una sindaca. Quindi voterà alle primarie? Credo che siate abbastanza intuitivi per dire che voterò la mia vice sindaco, che come ho ho detto più volte, è un ottimo vice sindaco e quindi sarebbe un ottimo sindaco, anzi un'ottima sindaca. Che cos'è che ha colpito, vi sappiamo maggiormente, anche il fatto di aver lavorato insieme per tutto questo lungo tempo? Sono molto felice perché è una grande prova di stima, di fiducia, è un'attestazione di fiducia che naturalmente mi riempie di gioia. Sono molto felice e molto orgogliosa. Credo che l'endorso di Pisapia sia un forte sostegno per le primarie? Quello che posso dire è che sono sinceramente orgogliosa, Giuliano Pisapia è il miglior sindaco che abbiamo avuto, è riuscito in questi anni a fare un lavoro straordinario e quindi per me è veramente una ragione di grande orgoglio avere il suo voto. Grazie.